L'evoluzione della norma Uni ISO 45001 è destinata a riservare cambiamenti per tutte le imprese coinvolte già certificate o che intendono certificare il proprio sistema di gestione per la salute e sicurezza. A partire dal 12 marzo prossimo, gli enti di certificazione saranno obbligati ad effettuare audit secondo i requisiti della norma introdotta nel 2018, per queste ragioni la Camera di Commercio di Prato, in collaborazione con NGT Consulting, Ordine degli Ingegneri e Ordine degli Architetti, organizza un apposito incontro formativo rivolto alle aziende e ai professionisti interessati. Il seminario gratuito si terrà giovedì 23 gennaio dalle 9 alle 13. È una norma che riguarda i sistemi di gestione per la salute e sicurezza, quindi va a prendere in considerazione tutto ciò che riguarda la salute e sicurezza in azienda. I due principi fondamentali sono il garantire il rispetto della normativa applicabile per ogni azienda e il garantire anche il miglioramento continuo per tutti gli aspetti che riguardano la salute e sicurezza. A chi si rivolge il corso ci sono dei settori a cui è particolarmente dedicato o riguarda tutte le imprese? Ma riguarda un po' tutti i settori e un po' tutte le imprese. Può essere interessante quindi sia per il mondo aziendale sia per tutte le aziende che o sono già certificate o che intendono certificarsi per capire appunto quali sono i requisiti specifici della norma e come possono essere applicati in modo il più semplice possibile ma anche nel modo più efficace possibile. Può interessare anche consulenti e libri professionisti che comunque svolgono un ruolo nell'ambito del supporto alle aziende sui sistemi di gestione salute e sicurezza. Sono degli adempimenti in più che vengono richiesti alle aziende in forza di questa normativa? Sì, alcune novità ci sono sulla base della struttura di alto livello che è stata creata per creare anche una maggiore uniformità rispetto agli altri sistemi di gestione come i sistemi di gestione per la qualità o i sistemi di gestione ambientale. Quindi sicuramente tra le novità c'è l'analisi del contesto, l'analisi delle esigenze aspettative dei lavoratori e delle parti interessate e la modalità con la quale possono essere analizzati all'interno dell'azienda i rischi e le opportunità. In questo caso ovviamente pensando ai rischi e le opportunità, le opportunità per un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza all'interno dell'azienda. Il seminario sulla norma Uniso 45001 è il primo appuntamento del calendario di incontri predisposto per il 2020 dalla Camera di Commercio di Preto per la formazione e l'aggiornamento di imprenditori e professionisti. Cerchiamo di spaziare su argomenti vari che possono venire in conto alle esigenze di tutte le categorie. Abbiamo ad esempio a febbraio, il 25 febbraio, la terza edizione del corso Fare Branding su Instagram che appunto, visto il grande successo del 2019, viene addirittura replicato per la terza volta. Poi abbiamo un'altra iniziativa tra marzo e aprile sulle tecniche di vendita e poi nella seconda parte dell'anno altri due progetti che riguardano tecniche innovative di marketing. Uno riguarda la brand experience, cioè come utilizzare la realtà aumentata per valorizzare i propri prodotti e un altro sull'utilizzo di LinkedIn non semplicemente come strumento per cercare lavoro, ma proprio come strumento che le imprese possono utilizzare per fare appunto marketing e per farsi conoscere.